Terrore, morte, distruzione, ma anche slancio guerresco, esaltazione eroica, estasi della vittoria. La mostra La Grande Guerra, arte, luoghi, propaganda, alle Gallerie d'Italia ad Intesa San Paolo di Milano, Vicenza e Napoli, ci mostra con immagini indimenticabili i tanti volti del primo conflitto mondiale, evento che con la sua tragica ampiezza ha cambiato per sempre la storia umana. Senza La Grande Guerra non si possono comprendere i grandi mutamenti che sono subentrati nel Novecento. Noi abbiamo ritenuto però di dare un racconto della Grande Guerra per tanti aspetti originali, cioè attraverso l'esperienza e i turbamenti anche culturali e di coscienza che questo avvenimento ha creato presso gli artisti. Milano della guerra è il cervello. È qui, fra la miseria raccontata da simbolisti e divisionisti, che covano le tensioni sociali del primo Novecento prossimi a sfogarsi sui campi di battaglia. È qui che i futuristi elaborano la loro estetica della guerra, esaltandone la bellezza, il dinamismo, l'energia e la magnificenza tecnica. Ed è sempre qui, nel dopoguerra, che il fascismo comincerà a creare il mito della vittoria, l'immagine monumentale di una nazione guerriera erede dell'impero romano. A Milano abbiamo come la guerra viene rappresentata nell'arte, nella scultura e nella pittura. In qualche modo viene quindi trasfigurata creando il mito della guerra stessa. A Vicenza l'attenzione è puntata soprattutto sui pittori soldato, che furono dei grandi reporter di guerra e quindi l'attenzione è sui luoghi della guerra e sui personaggi come sono stati rappresentati in maniera molto diretta, in maniera quasi cronachistica. Nelle sale vicentine i grandi pittori e illustratori dell'epoca, da Cascella a Cantinotti a Beltrame, ci portano al fronte, nel fango delle trincee, sul carso, lungo il piave, a caporetto, nell'inferno sulla terra. Ma a Vicenza vediamo anche la bellezza ferita, come nei gessi di Canova mutilati dalle bombe, più potenti nella loro agonia di molte opere di arte contemporanea. E poi foto d'artista realizzate oggi di quegli stessi luoghi dove si combatte, paesaggi la cui bellezza pare già sul punto di cancellare ogni traccia di sofferenza. La terza mostra, quella di Napoli, è dedicata a come la propaganda ha saputo rappresentare la guerra e far accettare l'idea del sacrificio agli italiani attraverso i manifesti che hanno pubblicizzato la guerra stessa e attraverso una serie anche di materiali diversi perché la propaganda si è servita quindi dei materiali più sofisticati, più disparati. politica e ideologia a Milano, sangue e tuonare di cannoni a Vicenza. A Napoli, propaganda per una nazione che deve sacrificare i suoi figli. Un paese unito da tre grandi mostre, come lo fu nella tragedia, nel coraggio e nel desiderio di vivere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.